Italo Svevo, pseudonimo di Ettore Schmitz, la coscienza di Zeno, a cura di Bruno Maier, Portenone, studio tesi 1985. Il libro utilizzato per questa lettura proviene dalla biblioteca di Liber Libere, edizione elettronica a cura di Alberto Barberi, Claudio Paganelli, Mirko Spadaro e Vittorio Volpi. Lettura di Silvia Cecchini, revisione di Vittorio Volpi, musica sonata a Kreutzer di Ludwig van Beethoven, esecuzione e arrangiamento di Ivan Genesio. La presente lettura è stata realizzata per il progetto Libro Parlato, sito internet www.liberliber.it 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 www.liberliber.it